Silvia Toffani torna con Verissimo, chi è il primo ospite?. Verissimo, quando ritorna il programma di Silvia Toffanini chi è il primo ospite?. Silvia Toffani torna in tv il prossimo sabato 16 settembre con il suo talk Verissimo, e la prima ospite che sarà intervistata dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi sarà Meghan Montaner. . L'attrice, meglio conosciuta con il nome di Pepa, è stata la protagonista della prima stagione della telenovela di Canale 5 e Il Segreto, e già più volte ha sceso le scale del salotto della Toffanini. . Tuttavia, come riportato anche dal sito Davide Maggio, questa volta l'intervista sarà sicuramente inedita, l'attrice infatti si mostrerà per la prima volta alle telecamere di Verissimo dopo essere diventata mamma del piccolo Kyle, nato dalla relazione con il biologo alimentare Gorka. . Meghan aveva annunciato di essere incinta durante gli ultimi mesi del 2016, mostrandosi sui social in tenere posizioni mentre insieme al compagno accarezzava il pancino che via via aumentava sempre di più di grandezza. . Infine, il lieto evento era accaduto durante il mese di aprile, e Pepa si era mostrata felice ed entusiasta sul suo profilo Instagram insieme alla splendida creatura. . L'attrice della telenovela spagnola racconterà quindi sicuramente graziosi aneddoti riguardo la sua vita privata e microfoni di Verissimo, rispondendo anche alla domanda che molti suoi fan si stanno attualmente facendo, tornerà mai a recitare all'interno della SOP di Canale 5. . . Silvia Toffanin, chi è l'ospite della prima puntata di Verissimo? Pepa risponderà quindi a tale incognito sabato 16 settembre, quando tornerà in onda Verissimo, il programma di Silvia Toffanin. . 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